Poliziotti dotati di microcamera, un'iniziativa del SAP a livello nazionale che è arrivata anche a Como, di cosa si tratta esattamente? Noi abbiamo voluto dotare i nostri colleghi iscritti di questa spy pen, che è una penna con una microcamera con cui possiamo filmare il nostro operato, sia nelle situazioni di ordine pubblico, sia nelle situazioni di interventi che riguardano la volante o altri equipaggi. Questo lo abbiamo fatto prima di tutto per la tutela della nostra categoria del collega che opera e quindi vogliamo utilizzare i nostri iscritti, ma anche e soprattutto per una trasparenza nei confronti dei cittadini e anche nei confronti della magistratura che può acquisire le nostre immagini a riprova di quello che può essere fatto. Quanti poliziotti comaschi saranno dotati di questo che è una sorta di regalo di Natale per i vostri associati? Sì, i nostri associati sono 130 e quindi daremo a tutti la possibilità di avere questa spy pen che, ripeto, è solo una minima tutela che vogliamo dare ancora di più ai nostri iscritti perché comunque siamo sottoposti tantissime volte, siamo tantissime volte filmati da altre persone e quindi anche noi vorremmo riuscire a filmare determinate situazioni che poi possono essere utili sia per i reati che si compiono e sia per i cittadini anche per tutti. Insomma, utile alla verità. La verità, la trasparenza e verità. Noi abbiamo questo concetto qua di trasparenza e verità nei confronti di tutti. Non abbiamo paura di nessuno e di essere filmati, né chiaramente di poter filmare la persona. Ci sono stati episodi particolari che abbiamo fatto venire questa idea di donare questa penna? Gli episodi sono a livello, perché è un'iniziativa a livello nazionale, sono tantissimi anche quest'anno a livello nazionale gli episodi in cui i nostri colleghi sono stati aditati e sono stati aditati di reati o comunque di presunti reati poi chiaramente sono stati prosciolti e quindi certe situazioni noi non vogliamo più che si... A come o quando le utilizzerete? In occasione di partite, manifestazioni? In ordine pubblico, partite e manifestazioni e poi potranno anche essere utilizzati negli interventi delle volanti o degli altri equipaggi della stradale come della frontiera. Ovviamente è un uso che farete legale, cioè a norma di legge, però potrebbero esserci anche degli abusi tra virgolette nel senso quando un poliziato può accendere la penna? Abbiamo ottenuto la garante della base, ha detto che non c'è nessun fatto stativo, quindi noi siamo tranquillissimi i colleghi sono tranquillissimi perché non abbiamo niente della nostra trasparenza, non ci sono problemi abbiamo la trasparenza, quindi non ci sono problemi nel senso.